Le versioni aggiornate della berlina Volvo S90 e delle station wagon Volvo V90 V90 Cross Country offrono sull'intera gamma i propulsori mild hybrid. Le nuove versioni delle vetture recentemente presentate sono anche contraddistinte da una linea della carrozzeria raffinata e un nuovissimo e avanzato impianto audio Bowers & Wilkins. Fra le novità introdotte a livello di portafogli o prodotti sono incluse le diverse varianti del propulsore mild hybrid con tecnologia a 48V ora disponibili su tutti i modelli Volvo nell'ottica di un ulteriore ampliamento dell'offerta di modelli elettrici a marchio Volvo. Per quanto riguarda la carrozzeria, gli esperti di Volvo sono intervenuti con varie ottimizzazioni nella sezione anteriore così come nella parte posteriore della S90 e della V90. Le ottimizzazioni comprendono nuovi fendi nebbia, uno spoiler dal profilo rinnovato e un nuovo paraurti anteriori più basso. Il tratto che colpisce maggiormente sulla V90 e V90 Cross Country è la nuovissima linea dei gruppi ottici posteriori che includono caratteristiche luci full LED e indicatori di direzione sequenziali. Nuove tonalità per la carrozzeria e nuove opzioni per quanto riguarda i cerchioni vanno ad ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione. Un'altra novità nell'abitacolo è l'unità Advanced Air Cleaner con sensore di particelle di particolato PM2.5. Sviluppato inizialmente per il mercato cinese e ora disponibile in tutte le aree geografiche, il dispositivo consente di tenere sotto controllo la qualità dell'aria nell'abitacolo mediante lo schermo centrale. Se lo si desidera, l'Advancis Air Cleaner può eliminare quasi tutte le particelle più fini disperse nell'aria dell'abitacolo nel giro di qualche minuto. Passando ai materiali utilizzati per i rivestimenti interni, il raffinato tessuto misto lana utilizzato per la prima volta lo scorso anno per gli esclusivi sedili del modello XC90 è ora disponibile anche per tutti gli altri modelli della serie 90 e 60. Mentre per i pacchetti di allestimenti di livello superiore viene proposta anche una variante Ladder Free degli interni. Volvo Cars sta ampliando in modo significativo il numero di varianti con propulsore mild hybrid a 48V anche negli altri segmenti della sua gamma con l'obiettivo di rendere questa opzione di alimentazione disponibile per ogni singolo modello Volvo. Proposti per la prima volta sui modelli SUV XC90 e XC60 lo scorso anno, i propulsori mild hybrid sono ora disponibili anche su tutte le altre vetture della serie 90 e 60, oltre che sulla XC40. I propulsori mild hybrid della V90 Cross Country rappresentano le prime varianti elettrificate nella storia della gamma Cross Country. I sistemi mild hybrid di Volvo Cars consentono di abbattere fino al 15% di consumo di carburante e le emissioni in condizioni di guida reali su strada. Il sistema brake by wire interagisce con l'impianto di recupero energetico riducendo il consumo di carburante e le emissioni attraverso il recupero dell'energia cinetica realizzato durante la frenata. considerando la linea di modelli recharge elettrici al 100% e ibridi plug-in si può affermare che ora esista un modello Volvo elettrificato per ogni esigenza d'uso.